...questa immagine che sale sulla scala e quella qui la statua, la facciamo vedere, sta salendo per mettere finalmente la fascia di Capitano. Bruno! Guardate qui, guardate qui, guardate qui! Giratevi un attimo, girate, Bruno, giratevi. Guardatevi vedere il tuo muro, Beppe, giratevi, Bruno. Guardate, Beppe, giratevi. Guardatevi, Beppe, giratevi.